RIPOLE RAFAZIONE NON RIPOLE CHECIALPARE VELE DA DINO DI TUTTO NO HAHA HA HA ADDIO ADDIO UN DIRUS UN DIRUS UN DIRUS UN DIRUS UN DIUS UN DIRUS UN DIRUS Posso andare in città? A me mi sembra la casa di Flinster. Ah, niente! Grande fratello ritorna. Vi aspettiamo il 7 novembre al Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria in via Vittorio Veneto 66.